Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Crollo di un edificio a ridosso in piazza Castra Marcelli. Nella frazione di Cancello Scalo a San Felice a Cancello. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie in cerca di feriti. E, quanto accaduto verso le 6.50 dove un edificio in via Napoli ha ceduto presumibilmente a causa di una esplosione verificata sia a sua volta per via di una fuoriuscita di gas. Vigili del fuoco e carabinieri scavano tra le macerie. Elementi ancora al vaglio dei vigili del fuoco del capoluogo e del distaccamento di marcianise che in attesa dei mezzi speciali provenienti dal comando di Napoli stanno scavando a mano tra le macerie in cerca di feriti o morti. Presenti sul posto i carabinieri della compagnia di Maddaloni. Abbiamo pensato ad un terremoto. In strada si sono riversati tutti i residenti dei palazzi adiacenti a quello crollato. Molti di loro sono in pigiama. Abbiamo pensato ad un terremoto e siamo scesi in strada. Hanno raccontato ai soccorritori. Quando sono passate le 8.30 del mattino. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie. Sembra che all'appello manchino due persone.